Nel caso di Alice Neri sono arrivati gli esiti degli esami effettuati sulla spallina del reggiseno e non solo. Su di esso sono stati rinvenuti ben tre DNA diversi, ma tra questi non ci sarebbe il DNA di Mohamed Galul, principale sospettato tuttora in carcere. A chi appartengono questi tre DNA ancora non ci è dato saperlo. Il DNA di Galul inoltre non c'è nemmeno su altri oggetti, ovvero anelli di Alice, il fazzolettino, la maniglia all'autoguidatore e dei mozziconi di sigaretta. Nel registro degli indagati rimangono iscritti, oltre a Mohamed Galul, che è il principale sospettato, anche Nicola Snegrini, il marito di Alice ed il collega, per atto dovuto. Ovviamente appena avrò novità vi farò un altro video. Come sempre ditemi cosa ne pensate qua sotto. Grazie a tutti.